amaro montenegro per chi conosce i sapori veri vengo spesso da queste parti a ritrovare i sapori della mia giovinezza un formaggio così si trova solo da giovanni quando uno è imparato a riconoscere i sapori veri è difficile che si sbagli a casa sua dopo una bella cena c'è sempre un bicchierino di amaro montenegro amaro montenegro ha un sapore un sapore che non ti sbagli lo riconosci subito sapore vero sapore di montenegro